Aldo, il giorno 23 ottobre 2018, sono entrato qui in questo momento, mi trovo nella mia casa d'artista a Brumano, Valimania, c'è il divano tutto nuovo, posso dormire qui stasera, le scale di una volta, la trave di legno, eccolo qui le trave, questa casa appartiene al 1826, a me piace questa atmosfera di una volta, mi entusiasma, devo dire, a un qualcosa che fa parte della mia personalità, questa è la casa a Brumano, l'ultimo paese della Valimania, sono arrivato col bus, che bello, di sopra salendo di qua, ci sono quattro camere, quattro camere, tu col soffitto e le trave di legno bianche, la prossima volta faccio vedere anche la casa, le camere di sopra, ora poco per volta, qua c'è dentro il cammino con la legna, che bella epoca era allora, non la vita di Milano che si vive tuttora, abbasso un po' la testa, entro in cucina, il finestrino, la finestra riguarda le persone che passano, il mormorio della gente, ecco qua la stufa, c'è dentro molto caldo, va a legna, casa riscaldata meglio di quella di Milano, farò da mangiare stasera cose genuine della campagna, Aldo Apro la porta, si vede la vallata, eccola di fronte, che panorama, altro che il bosco verticale, va al colore di quelle foglie di fronte autunnale, il tramonto in fondo della valle, una cosa eccezionale stasera, il terrazzo, la montagna sovrastante sono i piedi della resegone, chiudo per non fare uscire il caldo, qui nasce l'arte, e qui che nasce il senso artistico, saluti da questo youtube di Aldo, della Valimagna Apro la porta,